Il già deputato Antonio Cuomo, per tutti Tonino, scende in campo per la corsa al sindaco di Eboli. Lo annuncia il coordinamento Cuomo-sindaco con una nota ufficiale, la politica che unisce. Nella stessa viene messo in evidenza come Eboli vive un momento difficile e decisivo per il suo futuro. Da un lato si ripropone lo schema del civismo fine a se stesso, dall'altro si avanzano iniziative personalistiche prive di una base di confronto reale. Noi stiamo facendo il percorso opposto, per questo hanno chiesto da Antonio Cuomo, scrivono, di mettere a disposizione della città la sua esperienza per guidare una coalizione di più liste ispirate sia al valore del civismo sia a quelli del riformismo, inteso quest'ultimo come impegno per affrontare e risolvere i problemi della nostra comunità e per porre le basi di una città più solidale, più dinamica. Oltre ad Italia Viva ci sarebbero altre due liste, fra i nomi di spiccola già consigliera Simona Naimoli ed il già sindaco Martino Melchionda. La candidatura di Cuomo si aggiunge a quelle di Cosimo Pio di Benedetto, Giancarlo Presutto, Damiano Cardiello, Alfonso del Vecchio e Sandro Lamonica. I grandi assenti a questo punto sono i candidati del PD e del centro-destra. Il PD valuta i nomi di Lucas Groia, Luigi Morena, Cosimo Ciccia e Damiano Capaccio. In serata a Salerno si dovrebbe svolgere l'ennesimo incontro. Nel centro-destra tutto in alto mare, non si esclude il nome di Fausto Vecchio. Intanto, dopo aver presentato la lista appunto a suo eboli, questa mattina il candidato sindaco a Cosimo Pio di Benedetto ha svelato la seconda civica a suo sostegno, che si chiama Liberamente. I coordinatori sono Domenico Spinelli, Doriana Delia e Giovanni Germano. Nei prossimi giorni di Benedetto ufficializzerà la terza lista dal nome Siamo Eboli.